Siamo qui per tirarti sul Simo. Scusami, va bene, va bene, non ti tocchiamo, però esisti. Siamo davvero a 700 metri. Guarda, chiedi anche a lui quanto manca a 700 metri. Visto? Mentre ci siamo, oggi partiamo alla volta della città santa, dove ci aspetterà prima o poi il Santo Padre, magari Mario Draghi, Barack Obama, Silvio Berlusconi. Buongiorno. Seppe, anche tu devi provare a salutare tutti oggi. Ciao. Se ce la faccio, lo resisterò, se non ce la faccio, ja. Mi mancano i genitori? Sì, un po', sì. Ma uomini, voi puoi, puoi, io dammi. Io non vedo l'ora che siamo a Roma, così finisce stupito. Devo esistere. La bellezza delle persone con autismo è essere profondamente autentiche, profondamente esplicite. Questo talvolta, nella nostra società, può essere persino considerato una disabilità. Moltissime persone pensano che gli autistici siano molto incapaci di fare certe cose, ma invece questo progetto dimostra che è l'esatto opposto. E come dico sempre, noi autistici non ci renderemo mai. No, no! No, no!